Oh mamma, che cosa facciamo? Intasiamo il lubinetto, Tina No, ma non è il lubinetto No, questo è intasiamo il lubinetto con la... Ah! Ciao a tutti! E benvenuti da Tina e Pippo di più Allora ragazzi, oggi video speciale Guardate qua quante cose abbiamo Tanti colori, che bello! Non vedo l'ora E poi mi chiedete perché? Perché? Perché oggi faremo un video dove Le precette decidono gli ingredienti Del nostro slime! Perché tantissimi di voi Ci stanno chiedendo di fare un video dedicato Allo slime, dove ne facciamo slime eccetera E quindi, appunto, oggi le precette Sceglieranno gli ingredienti Che dovremo mettere nel nostro slime ragazzi Si fa così? Avremo Sì certo, con il tappo qui, vabbè Inoltre ragazzi, questo video ci è stato consigliato Da alcuni di voi, vero Pippo? Sì! Allora, ho già pronto con le brecce a tirare Allora, ho i nomi segnati qua sulla pecore Allora, ovvero Mattia Naldoni Stefano Yu Giorgiano Maria Amar Prette Singh King Lores Asia Cognetti Poi Adelina Gaina Crafty Ho fatto anche rima ragazzi, è bello Poi Crafty Ninja Cesare Faccio E Iob El Alowani Oh! Ce l'ho fatta! E poi invece salutiamo anche i primi tre Che hanno commentato L'ultimo video uscito Ossia Pantacorni Love Checco Killer YouTube E poi Icram VDD Quindi, muah! Grazie mille del vostro consiglio Grazie mille per aver commentato Vi ricordiamo che Appunto Nei video Saluteremo Le primi tre persone che hanno commentato il video E quelli che ci hanno consigliato il video Bravo, più di così Non posso chiedere Ok, allora Qui ragazzi abbiamo Due ceste Quella nera Allora Con gli ingredienti Un po' cattivelli Ecco E gli altri invece Arancioni Sì, la cesta arancione Ingredienti che sono contenuti Nella In questa busta Chiamiamola così Orbix Squeezy Mega Pack Allora Quindi questo Questa praticamente Quella pionda E quella cattiva Sì Ok Allora Tutte quelle cose Non le piene Comunque ragazzi Visto che Visto che Cioè comunque Avremo uno Uno slime Trasparente Perché mettete che Non ci capita nemmeno Uno di questi E Dovremmo comunque Avere comunque una base Comunque La apriamo Così vi facciamo vedere Il contenuto Va bene Pistopo Vabbè Comunque Ci sono Due Orbix Sì XXL Che mettiamo qui Con le altre Bravissimo Poi cosa c'è? E Due slime Tiratori Sbaglio Allora Sì Qua dove c'è Bubble Balls Perfetto Comunque sarebbe Lo slime E poi c'è Il booklet Anche dentro Ragazzi Ok Voi Iniziare Voi Iniziare Aspetta Questa è quella Cosa Che ti Nel Carica Sì Sono proprio Carica Adesso Ok Tiriamo Sì Cerchiamo Ok ragazzi È il mio turno Dovrò lanciare Per sei volte Quindi Vediamo un po' Cosa esce Ti puoi Tanto è qua Che mi supporta Allora Io vado Vado il primo Squishy Megaballs Blu Vado No Nei pepi due Squishy Megaballs Blu E polvere Quella Lotto Viola Cosa Perché L'ho sott'alto Eh sì Sono L'ho sott'alto Perché Che mi ha No Però Ho colpito Questo Quello Rossa Quindi Squishy Megaballs Blu Che sarebbe Questo Qua Oh che bello Perfetto Mi è uscito lo slime Yeah Fantastico Ok Poi Ah Dove venire di nuovo Adesso Adesso prendo lo shampoo Il vuoto Fantastico Vai Antti Mi fa darmi anche la tua teccia Ma così facciamo più veloce Il numero Oh Forma Gialle Allora Questo Questo qua Oh che carine Belle Fantastico Poi Colla Per il padello Shampoo Oh mamma Quello cattivo Shampoo doppio Vogliamo mettere doppio shampoo Questo E questo vedo Sì Quindi doppio Mettere doppia dose Sì Ne mette due Due Bellissimo Due Non è tenuto Fatta caduta ragazzi E quindi ne devi mettere solo due Perché Sì Ne ne mancano due Allora Prendola Niente Bella Bello No Non le ripeto 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 No Non le ho già messo Pippo Andiamo Niente Oh Polvere colorata Viola Buona ragazzi Lavorata Questa Sì Ma perché è bello Bellissimo E te ne manca uno E poi me ne manca uno Tina Prendi sto colorante rosso Io vorrei Un po' che ne so Dei glitter argenti Sì Ce l'ho fatta Fantastica Che sono qua Farvi vedere Prima di un po' Questi qua Che carini Adesso signori Ci penso io La mia ciotola Direi che è bella Bella piena Signori ci penso io Vai Ah io sto qua Così ti prendo Vai Concentri Vuole riportire Con le palline azzurre Eh Vai No più lontano No Glitter verde Sì Bello Sì Bello ragazzi Prendi chiaro Ne mancano cinque Vai Adesso proprio se prendi glitter dorati lì Eh vabbè Se sporco il muro Se sporco il muro non è colpa mia No ma questo che è il muro Sporco Fonbolts 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 rosa Sì ragazzi Proprio l'ha colpito qua Questa Bravissimo Lì Mamma mia Vieni più qua Pippo se no non ti vedi Ok Vai Io vado tra i due shampoo No Tra i due shampoo Poi prendi tutto l'altro Pippo È una mira Con te Colla Colla Trasparente Dammi dammi Quanti sono Aspetti Non provarci Vai Fonbolts blu Allora vado tra Fonbolts blu E Fonbolts arancione E Fonbolts blu Perché la voleva Non ho voluto Mi fa il discorso ogni volta che deve Dove andare vai No Appena uscito Mi cazzo Vabbè non importa Non è di scevolo Vuoi più Ehi Glitter E non importa Vabbè le puoi prendere tu Ah non ci sono Niente Due Bellissimo Ok Schiuma da barba Wow Ti dico questa Mi ha prenduto insieme Bello Ok mi direi Uno Due Tre Quattro Cinque L'ultimo Per Pippo Dai Vuoi uno slime L'ultimo A parte che ho già Lo slime Sì Infatti Ok Perfetto Vado a caso Vado a caso Magari Se non cade Fonbolts arancione Vai Bello Vuoto Dammi Vai Dammi l'altra Che ho usato No No Adesso lì Vai Sono uguali C'è un commento Povoltio te l'ha maledetto Sì Ragazzi Il tempo che ci ho messo io è quello che ci sta mettendo lui Vai Ho Colla E non l'hai già messo Oh Bamba Ci ho provato sette volte su sei Prego Tieni Pippo Fai pazzi Non è mai uscito questo ragazzi E vabbè Fazienza Nemmeno i coloranti Facciamo una cosa Viste come è uscito il doppio a me Ecco Provo Lo shampoo doppio Ne faccio un altro Vai Vabbè Provo a mirare Ho questo Facciamo una cosa Ne aggiungiamo molto tutti e due No No Tu no Perché tu c'hai tutti diversi Va bene tu lì Vediamo un po Provo il colorante Prova la maledettina Si Colorante rosso Bellissimo Oh Fantastico Perfetto Dov'è? A mia vista Eccolo qua Che si trova sempre nella busta Che vi ho fatto vedere prima C'è anche giallo e blu Ok ragazzi non mettiamo lo slime trasparente Tanto per fortuna tutti e due ci è uscito uno slime A Pippo appunto questo viola Ma quello blu quindi possiamo anche non metterlo Ok allora Pippo Vai prima metti tutti i suoi ingredienti E poi io metto tutti i miei Partiamo dallo slime Ma no ma partiamo dallo slime Pippo per forza Perché poi dobbiamo No partiamo dallo slime Vai Taglialo con la forbice Che bello Tagliare le orbics Se vuoi te lo scambio per quello No 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 non possiamo Pippo Uscito questo Vai In teoria quello che mi non vuole capitare a me L'è capitato a lei Ce la fai Aspetta te lo toglie va Ecco Oh mamma Ok vai vai Non è viola Infatti non è viola E crei come un colore panna Ok è andato Poi Vai Un pezzo Basta Ok Nostro padre sarà molto contento Libia è fantastico No non iniziamo a mischiare Metti le altre cose Ciao Non mi Non mi Io dicono Colla Trasparente Che bisogna ancora aprire E certo Nuova nuova Aspettate la apro Nuova di zecca Metticene intanto le palline Con le cose lì Qua Mimmo quanto schiuma c'è ragazzi Ah beh Perché Io sono pazzo Più pazzo di te Capito Ah quello di sicuro Non avevate dubbi Scrivete in un commento Vai Vai Metti No ma Lei deve aprire qua Che pasticcio Ok Perché voi ragazzi nel video vedete che facciamo casino Ma poi il brutto è E pulire E pulire Tutto E chi pulirà? Vai No io faccio Metti Vai Basta 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 Ok Poi Glitter No il glitter è il per l'ultimo Ah queste Vai E le apri Allora Mamma mia che slime No io le faccio Vai Che belle Azzurra e rosa Vai vai Che casino Che casino Mi fa sapere che è il mio più casimista del tuo Ah infatti Vedrò va Ok E poi glitter Non tanti Non tanti pippo perché Ecco Non tanti Basta Aspetta Devo chiudere Chiudi No no Pippo Dai Mi fa tutta verde Cioè Va bene E diventò Quello Sare Posso mischiare Vai inizia a mischiare Dai vediamo come viene Sembra Panna montata Sembra gelata La panna Quando tipo Ti pippo Bello però Ok vedremo Cosa Quale sarà Il risultato di pippo Adesso ragazzi Venite con me Voglio vedere Il suo Due glitter Ragazzi venite con me Così facciamo Il mio Allora Iniziamo da Con lo slime Posso vederci E poi dopo Continuo Sì Col vicine Averso la tua maglietta Esplode Eh Non c'è qualcosa Che Oh mamma Eh bianco anche il mio Fantastico Bello Che cosa succede Un maialino Succede un maialino Un maialino Sì Ok Basta Direi che Può andare Ok Poi Ci mettiamo Un po' di polvere Viola Mi sta venendo male Guardate Ma quello di pippo È bellissimo Eh Allora ragazzi Oh Ahahah Mi è caduta No la pippa Non è che se non viene Mi è caduta Un casino Godo Non importa Cioè ragazzi Godo Allora shampoo Ok Dai Basta Ma no Ma mi resta poca Io non ti ho detto a te quante metterne Ancora Ancora Dopo posso aggiungere tanto Poi colorante rosso Cioè ragazzi Devo aggiungere un litrino di cosa Un litrino Cosa aggiungi tu? Un pizzico di Di conno Che bello Il colorante rosso Pina dov'è la mia I miei Così I miei ingredienti Tina Ok Dove sono? Sono lì Non occuparmi di inquadratura Pippo Poi Queste qua Hanno solo uno Io di pombole Mettete Pertate la Ma questo è mio Sì 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 Oh Già Dove che ci stanno bene Dai Ti piacciono Ancora Ok Ok Questo slime È il più pazzo del mondo Sì Veramente Non fatelo a casa Vedo consiglio Perché Glitter Abbondiamo Perché sono bene Se lo volete fare Fatelo Ma non con la Schiuma da barba Che ho messo io Ok Io vado Guarda il mio Che bello Che mi sta venendo Un po' Solediccio Sì Non guarda il mio Che mi sta venendo Bene Guarda come sta venendo Sì Con le pippo Sì Oh Mamma Perché ho messo Troppo polvere Ma guarda Non si appiccica Il mio Ma guarda Non si appiccica Non si appiccica Non si appiccica Non si appiccica Ok Che lo vado strano Che fa ambiccente Ragazzi E votate Che cosa tocchè Cioè Se siete qui Cosa tocchereste Il mio O che? No io toccare quello di Pippo Mille volte È un po' migliore È diventato Mi servirebbe un po' Di schiuma da barba Pippo Però non posso Eh no non posso prenderlo Perché non mi è uscito Ok Però che bello Tutto viola Il mio mondo Conoscendo migliore ragazzi Però eh Mamma mia Ragazzi Bello Allora ho aggiunto shampoo Guardate che bello È proprio diventato slime Bellissimo Quale tocca adesso Scrivelo comunque Ok dai Meglio di prima Non l'avevo preso Oh quello di Pippo È bellissimo Se voi lo possiamo toccare A vicenda No almeno io non ti consiglio Di toccarlo Posso toccare il tuo Fa vedere com'è Allora il risultato È quello di Pippo Meraviglioso C'è proprio slime Ragazzi Mi sono capito I miei denti Che non vuole Ma poi Ma è diventato bello Secondo me Se aggiungessi un po' Di colla di Pippo Verrebbe Dai ragazzi Posso aggiungerla Vi faccio vedere Come viene lo slime Dai Dai Pippo Aspetta Mi metto un goccino Nel mio No ma nel tuo bellissimo Dai 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 ragazzi No E tu mi dai lo shampoo Va bene Se vuoi lo shampoo Stavo scherzandoti Vedete che inizia a tirare Ancora un pochino Cioè ragazzi Siamo scienziati pazzi Boh Basta La colla comunque Miracolosa Tino abbarato Oh vabbè Dite voi Secondo me Qual è il più carino Ah ma abbarato Ho messo la mia Qual è il migliore Ok Oh ma tutte le palline No guarda Che bello Il tuo bellissimo ragazzi Pippo lo teniamo Eh Non tomeva bene Mi sa il mio Adesso tocco Il tuo non lo so Allora Ok ragazzi Questo è risultato Quello di Pippo mi piace un casino Il mio invece è un po' Oh Guarda Guarda Che bello Molto bello Abbiamo Non aggiungersi niente Perché è perfetto Così E tu cosa ci puoi aggiungere? No niente Io lo lascio Ma se vuoi gli smaltis Guarda che bello Se vuoi gli smaltis Eh se vuoi gli smaltis È vero E' vero Bellissimo ragazzi Yogurt alle palline Ditevi magari in questo momento E voi che siete più bravi Eh Come cosa potrei aggiungerci Per farlo Per recuperare E io cosa potrei aggiungere? Io cosa potrei aggiungere? No no Pippo Il tuo perfetto Facciamoci una formina Cosa? No niente Direi ragazzi che possiamo concludere qua Mi si appiccicano anche le bustine Solo che Io mi devo andare a lavare Eh anche io Guarda io Comunque Guarda che bello il colore Ti date un bel massaggino No No E' vero E' tutto il più bello Ah Scusa Vabbè Non mi fa me con niente Quindi se ci sono i suoi video Mettete Un bel pollice in su Se siete noi iscrivendo a questo canale Cos'è io tanto Al video Condividete Questo video Se vi cerchiamo Commenti extra extra Pippo e Nesto Bomba Ragazzi mi raccomando Lo so ci benissimi commenti Come fate sempre Adesso cliccate Qua sul video Che vi apparirà Lo stai rovinando Pippo Vabbè Cliccate sul video Che vi apparirà Se ve lo siete persi E niente Ci vediamo alla prossima Pippo Ciao Oh mamma Non so cosa facciamo Intasiamo subinetto No 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 Questo È il caso Il mondo Pippo Grazie a tutti.